Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, la patch 7.4 porta con sé un sacco di novità super super interessantissime. Lo sapete ragazzi, ci tengo a farvi conoscere il dietro le quinte di quello che c'è nel nostro gioco preferito. E allora, nel video di oggi ragazzi parleremo appunto di alcune cose relative alla patch 7.40, vedremo le nuove skin, le nuove skin per le armi e anche alcune cose extra, tra cui la skin Dark Ranger. Ovviamente i leaks non mancheranno. Intanto ringrazio tutti per utilizzare nello shop il mio codice XIUDERONE. Grazie di cuore per il mega supporto, mi raccomando, iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video. Non c'è la domanda oggi ragazzi, ma alle mie spalle abbiamo la schermata di caricamento della settimana 11. La settimana extra che è stata portata e che porterà con sé nuove sfide con grandi e interessantissimi regali. Quindi ragazzi, tanta tanta roba anche per questa schermata che ovviamente ci fa intendere che la fase numero 4 del prigioniero sarà assolutamente sbloccabile. Quindi ragazzi, vediamo subito i cambiamenti della mappa ragazzi. Lo avete notato sicuramente? Assurdo. A Bosco Blaterante c'è una modifica. Non abbiamo ancora capito se è stato un incendio, se è un principio di putrido pantano che torna. Io credo invece che sia molto più plausibile l'ipotesi dell'incendio. Come vedete c'è della terra di colore marrone quasi bruciata proprio intorno al bosco e potrebbe essere quella forse la creazione del vulcano. Non si sa ragazzi. Sappiamo che arriverà qualcosa inerente al fuoco. Sappiamo che arriverà qualcosa inerente ai terremoti. Sappiamo adesso anche dove potrebbe iniziare il tutto. Ma andiamo avanti e parliamo ragazzi del nuovo deltaplano. Il deltaplano quello di San Valentino che viene regalato a tutti quelli che vorranno regalarlo ai propri amici entro il 16 febbraio. Quindi attenzione ragazzi, attenzione ragazzi, ma entro il 16 potremo regalarlo massimo alla 1 di notte. Molta molta roba. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo davvero della skin Cupido. Quella che arriverà come regalo finale della settimana numero 11. Come vedete una personalizzazione del Dark Ranger con tanto di ali nere, le corna e i tratti in rilievo delle scanalature della skin stessa. Tanta tanta roba. Vi ricordo la cosa incredibile che è stata ufficialmente detta è che con il termine delle sfide di San Valentino, quindi entro il 27 febbraio, se le completeremo avremo il pass gratuito della season 8. Ce lo regaleranno. Tanta tanta roba ragazzi. Ma andiamo avanti e parliamo delle skin che arriveranno con questa patch 7.40 prima del termine della stagione 7. La tizia si chiama Skool, non me lo ricordo, insomma i colori originali della skin che abbiamo già visto nella schermata di caricamento. Abbiamo una nuova skin robotica ed è già la seconda ragazzi. Incredibile, incredibile come abbiano intenzione di continuare ad inserire i robot che potrebbero essere addirittura parte integrante non della season 8 ma secondo me delle season successive. La parte femminile, quindi la controparte femminile robotica, eccola qua. Ce l'abbiamo, non ricordo, si chiamano Razer, una roba del genere, adesso non ricordo con precisione i nomi. E la skin più bella ragazzi, la più bella di tutte, il gelatino. Tanta tanta roba, questa già ragazzi la sto sentendo nel mio armadietto. Come vedete io sono, sapete che sono attratto dalle skin ignoranti. La mascotte della gelateria ragazzi. Tanta tanta roba, tanta tanta ignoranza e ci sta. Arrivano anche i deltaplani. Eccolo qua ragazzi, un bel deltaplano con l'unicorno gonfiabile e tanto di nuvole caramellate. Il deltaplano della skin che abbiamo visto poco fa, la mascotte della gelateria. Quindi un mega gelatone con due coni, tanta tanta roba. Andiamo avanti ancora con il backpack. Penso che sia sempre il suo perché c'è dietro un gelato e ovviamente lo notiamo anche dal nome della gelateria. Will Whip mi sembra che si chiami, una cosa del genere. Il backpack invece della tizia con lo school. Un altro backpack, questi invece penso siano quelli dei robot. Non chiedetemi perché sono così, non ne ho assolutamente idea ragazzi. Boh, molto carino anche questo. Interessante anche l'ultimo backpack che vi sto facendo vedere dove c'è dietro invece uno skateboard. Tanta tanta roba. Ma parliamo ovviamente anche delle skin per le armi e per i fucili personalizzate. Questa è quella che verrà regalata a tutti quelli che hanno utilizzato il codice xyuderone nei support a creator. Quindi se avete utilizzato il mio codice xyuderone la otterrete alla grande. Ne abbiamo anche alcune di nuove. Questa è un'altra di San Valentino. Molto più bella. Se devo essere sincero, tanta tanta roba con questo magenta metallizzato e i codicini bianchi. Un'altra ancora che va a riprendere gli zuccherini, no? Le caramelline che si mettono a guarnizione delle torte. E anche un'altra con dei colori molto astratti, molto particolari. Ma ovviamente, sempre interessante. Molto probabilmente saranno delle skin che potranno essere esclusivamente acquistate nello shop. Beh ragazzi, ci sarebbero ancora tantissime novità di cui potrei parlarvi, ma non voglio spoilerarvi tutto. Vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!